E ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo prossimo video di Minecraft Survival Oggi come avete letto dal titolo andremo a fare una scultura per l'uovo di drago Questa scultura l'ho presa da una mappa si può dire, diciamo una mappa Skywars di un video che uscirà appunto domani Quindi proprio ve ne accorgerete quando lo dico perché proprio lo dico, dico questo qua lo voglio usare per fare la scultura all'uovo del land E dove farla questa scultura? Ho pensato di scavare, fare un mucchio di cose, farla qui in mezzo, fare un sacco di cose Alla fine ho pensato che sarebbe bello metterla o qui sopra perché ci sono fiori e cose varie oppure qua perché è vuoto Forse un po' più qua almeno ci facciamo qualcosa attorno Quindi ora facciamoci materiali e mettiamoci all'opera Ah ragazzi per chi fosse interessato sto giocando con la nuova versione quindi ogni tanto vedrete tipo nuova ricetta aggiunta al ricettario Perché comunque sto giocando con la nuova versione Ok ragazzi abbiamo preso tutti i materiali che ci servono quindi cominciamo Nei prossimi episodi dovremmo cominciare a fare la farm di ferro forse la faremo in una live Però comunque deve prima uscire questo episodio e poi farla live se no vi spoilerò tutto E non sarebbe proprio il massimo Quindi cominciamo Allora togliamo questa torcia e mettiamoci questo muretto Mi sono scordato la terra Parlando della nuova serie che abbiamo fatto sul canale ovvero la Old Wild West La West World Wild West World Wild Va bene quella la del vecchio West Bene È finita come vi ho già detto Cioè è finita tragicamente E wow Wow niente perché Devo trovare un'altra serie da portarvi Comunque Minecraft deve essere il gioco principale da portare sul mio canale Quindi cioè deve essere fantastica la serie di Minecraft che dovrò portare Forse porta una parkour monotona e basta alla fine Allora Devo rivisitarlo perché non abbiamo abbastanza diciamo materiali per far quello che abbiamo visto Tipo il ferro e cose così Potrei farla dopo la farm di ferro Solo che la voglio fare adesso E quindi adesso rivisiteremo un po' il tutto Allora qua la facciamo alta 5 Anzi alta 4 Allora ci mettiamo questo Ok E poi Un blocco di quarzo Se ce la facciamo potremmo anche saltare sopra E abbiamo fatto Quindi proprio stiamo a posto E adesso cominciamo con i Con gli scalini E ok La prima parte l'abbiamo fatta E già è figa così Cioè guardate qua che figata Adesso prendiamo un blocco di cobblestone Mettiamoci in mezzo E cominciamo a contornare questo blocco di cobblestone Con tanti scalini Adesso torniamo giù perché mi sono venuto un paio di idee Allora prima di tutto facciamo neri questi cosi Yeah Vai Ok E secondo di tutto andiamo e prendiamo un po' di luminite Perché nel progetto principale diciamo Quello dove sto prendendo spunto Non c'è nessuna fonte di luce in mezzo Però a me piace E quindi voglio mettercela E l'unica fonte di luce che so fare al momento E illimitata che non siano torch O simili E' proprio l'aluminite Ok ci siamo Allora prendiamo l'aluminite E la mettiamo in mezzo Poi prendiamo tutti i vetri E li mettiamo attorno Perfetto Ci siamo Adesso dobbiamo accappare tutto Con degli scalini Ok siamo quasi al termine Devo riscendere Adesso usiamo il nostro ferro E ci facciamo una cosa del genere Yeah E questa cosa andrà soprattutto Dove dentro Poi ci andrà Ci andrà l'uovo E quest'uovo sembrerà tipo Entrare dentro questo calderone Sarà una cosa tipo fighissima Magari fosse così Perché sembrerà soltanto un uovo appoggiato su un calderone Allora Appoggiamo il calderone Prendiamo le staccionate E mettiamole Non così Sì così Ok Dopo un po' ce l'ho fatta Adesso prendiamo La cosa più preziosa Di Minecraft Ovviamente Perché ce n'è solo uno E mettiamolo qui sopra Perfetto Non spostiamolo assolutamente Non tocchiamolo Se non scompare E poi Prendiamo un muretto Ce l'appoggiamo sopra Ok si può fare Meno male E prendiamo altre staccionate Saltiamo Ok ci siamo Vorrebbe essere tutto finito Almeno spero Guarda Per modificare un po' il tutto Vorrei aggiungere Una staccionata di qua Ed un'altra di qua Almeno Sembra tutto più bello Anzi vorrei farle anche Un po' allungate Quindi Ta e ta E anche lì sotto Ci arriviamo Sì Ok Ok raga Che ve ne pare Oltre che un agglomerato Di cobblestone a caso Forse allungare Qui sotto È ancora meglio Le cose più lunghe Sono meglio So Yeah Ci sta un botto Ok ragazzi Facciamo uno screenshot Tattico Sto troppo basso Un po' più avanti Grazie Ok E F2 Perfetto Ci siamo Allora ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Facciamo vedere La nostra costruzione Fighissima Noi ci vediamo In un prossimo video E ciao a tutti Passatevi in tutti i social Nella descrizione Ciao a tutti Ciao ciao Ciao